Questa volta 69 kg All'anno rosso Con parte per la Gladiators Tutto assacchi Dragon All'angolo blu Combatte per la bosca Salt Bruciato Un grande applauso A Mastro Marino Fabio Anche loro 3 round da 3 minuti Arbitrate signor Anceleri Prima ripresa Dai io Fabio Dai io Fabio Dai dai Ricomincia Alza le mani Ora, ora, ora! Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! 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 Ora, ora! Ora, ora, ora! Ora, ora, ora! Ora, ora, ora! Ora, ora! Ora, 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 ora! Ora, ora, ora! Ora, ora, ora! Ora, ora, ora!